Quante volte nella vostra vita vi siete domandati, o peggio ancora, vi hanno posto il quesito cosa vuoi fare da grande? Tante, forse troppe, e ancora oggi c'è qualcuno che si chiede se la professione che conduce è quella giusta oppure no. Fabio Delvino già conosceva la sua risposta, una delle più ambite, probabilmente impossibile per la maggior parte delle persone, ma non per lui. Da grande voglio fare il calciatore. Credo che ogni bambino, ogni ragazzo si approcci allo sport perché gli sia stata tramandata un qualcosa dai propri genitori, da un proprio parente. Nel mio caso è il calcio perché mio papà è stato sempre appassionato del calcio, quindi della Juve, e mi ha trasmesso questa passione che ho iniziato a coltivare da quando avevo 7 anni, quindi sono già 15 anni che pratico questo sport ed è diventato a tutti gli effetti il mio lavoro. Classe 98, l'attuale difensore della Virtus Francavilla, militante in Serie C, esordisce nelle giovanili del Bari nel lontano 2012, per poi passare nella Fidelissandria fino alla stagione 2016-2017 trascorsa nel Biceglie, squadra con la quale viene promosso in Serie C dopo una cavalcata all'ultimo respiro con il Trastevere. La sua prima rete la realizza il 23 dicembre 2017 contro la Paganese, siglando il 2-0 per un match che si concluderà poi con il risultato di 3-1. Primo gol tra i professionisti contro la Paganese il 23 dicembre del 2017, mi sono fatto pure il regalo di Natale. Ma il gol più significativo lo sigla nel marzo 2018 contro il Catania capolista. È stato l'1-1 fatto al 91 che è valso un punto molto importante contro una compagine attrezzata per altre categorie. Dopo un'ottima stagione con i Nerazzurri, Fabio è adocchiato dall'Alessandria e da molte altre squadre. Ma saranno i grigi piemontesi a riuscire a strappare un contratto con il difensore Bitontino. Ottimo nella difesa 3, viene anche utilizzato nel centrocampo A5 come esterno di fascia, adattandosi perfettamente alle esigenze tattiche. Dal 1 luglio 2019 torna nuovamente in Puglia, dopo la parentesi al nord, il quale girone si è mostrato più tecnico e meno entusiasmante rispetto al girone attuale nel quale affronta squadre come Bari, Regina o Monopoli. La crescita di Fabio è senza dubbio esponenziale e quest'anno ha avuto modo di esprimere le sue capacità, ma soprattutto una grande maturità mentale che in questo sport diventa decisiva per garantirsi un futuro roseo e ricco di emozioni forti. Un ragazzo come tanti dunque, capace di raggiungere il suo obiettivo e realizzare il suo sogno. Sogno che non tutti però al giorno d'oggi possono permettersi di realizzare. E allora non ci resta che augurare a Fabio il meglio. Fabio ha anche espresso ai nostri microfoni il suo parere sulla stagione del Bitonto. Sicuramente il Bitonto è un'ottima squadra allestita per fare un campionato diverso, ma mi auguro che possa alla fine riuscire nel suo intento che è quello della promozione. E l'eroguagulo diciamo con tutto il cuore.